salve in questo capitolo finale sulla color correction parleremo di bilanciamento fra varie scene anche detto shot matching scene to scene o anche color timing serve a far sembrare delle riprese fatte in tempi illuminazioni diverse come se fossero girate nello stesso momento non è un problema grave per le grandi produzioni o per la pubblicità che si assicurano il bilanciamento già in fase di progetto e di ripresa ma diventa essenziale per documentari riprese in tempo reale e filmati personali se non si cura questo aspetto compromettiamo irrimediabilmente il montaggio perché non assicuriamo la necessaria continuità visiva del filmato ai tempi della pellicola poteva essere fatta solo una correzione primaria oggigiorno con l'avvento di workflow digitali possiamo fare sia color correction primaria che secondaria il tipo di correzione è basato sull'esposizione storicamente si parlava di punti di stampa di colore o semplicemente punti colore che corrispondevano proprio a frazioni di f stop c'erano quattro manopoli di correzione una per ognuno dei canali rgb e una per la densità della pellicola cioè oggigiorno il contrasto quello che noi abbiamo chiamato master offset nei video precedenti se questo modo di correggere l'esposizione vi ricorda color three way avete indovinato è sicuramente lo strumento più usato vediamo come affrontare il processo di shot matching il primo passo è organizzare studiare attentamente le varie clip e poi scegliere quella più rappresentativa a cui applicare uno stylized look che ci piace o che ci richiedono tale edit farà da guida al grading di tutte le altre clip quindi è importante scegliere con cognizione di causa per evitare di cambiare idea rifacendo nuove correzioni alle clip già corrette in ambiente professionale si dice scegliere e correggere un master shot generalmente si usa una ripresa panoramica in cui sono rappresentati chiaramente i personaggi principali e si ha anche una buona visione dell'ambiente ma non deve essere per forza una regola dipende sempre da cosa vogliamo comunicare su tale filmato si bilanciano i colori e si correggere esposizione contrasto così otteniamo il nostro riferimento per le altre scene ci sono due approcci alla correzione del master shot la più veloce consiste nel bilanciare creare un look contemporaneamente ricorrendo alla color correction primaria la seconda modalità consiste nel preparare il bilanciamento prima salvare tali impostazioni e poi procedere alla creazione dello stile sia con la color correction primaria che secondaria richiede tempo impegno ma è più duttile se vogliamo ritornare sopra la scena in un secondo momento per ulteriori modifiche il secondo passo consiste nel confrontare il master shot con le altre clip ed eseguire il bilanciamento con queste ci sono tre modi per confrontare riprese diverse e noi dovremmo sceglierne uno o anche usarli tutti indifferentemente la prima è esaminare una scena di seguito all'altra la seconda è usare uno split screen per confrontare le zone contemporaneamente e infine la terza penso che lo abbiate capito a giudicare da tutti i video che ho fatto la terza è usare il video scope saltare da una scena all'altra è il metodo meno sofisticato e più veloce ma è quello consigliabile se facciamo solo grading primario bastano due label cioè etichette sulla timeline una al reference frame del master shot e una al reference frame dello shot che vogliamo bilanciare e poi semplicemente andare avanti indietro fra le label per il nostro confronto analogamente a come abbiamo scelto un master shot fra tutte le riprese della scena dobbiamo scegliere un reference frame all'interno di ogni shot master shot compreso e al frame di riferimento che applichiamo le etichette i programmi pro dedicati alla color correction organizzano la gestione delle riprese dei reference frame sfruttando i still store oppure gli image gallery o gli storyboard o come altro li chiamano i vari programmi se nell'rcg non possiede questi strumenti per ricavare comodamente un'immagine fissa con un click e poi organizzarla nelle galleri poco male il workflow che consiglio è di accodare tutti gli shot della scena in un'unica traccia e passare da una all'altra tramite etichette se sono troppe si possano parcheggiare su una seconda traccia e accodare al master shot solo lo shot su cui interveniamo al momento il secondo metodo cioè lo split screen fra due scene non è possibile farlo insieme l'rcg ma non è grave perché soffre del problema dell'adattamento dell'occhio alle immagini e ai colori in pratica dopo un poco l'occhio si adatta a ciò che vede e non riusciamo più a notare le piccole differenze è un problema più importante di quello che possa sembrare tanto che gli studi dei coloristi hanno un punto di bianco dove far riposare gli occhi con il primo metodo questo problema non c'è perché cambiamo continuamente le immagini non permettendo l'adattamento infine il terzo modo è usare il video scope di sicuro lo strumento più preciso di tutti alexis van yurkman avverte però che spesso alla massima precisione è preferibile un giudizio soggettivo del colorista che si ritiene abbia un suo gusto estetico e possa interpretare meglio le aspettative degli spettatori qui infatti non si tratta di bilanciare e correggere esattamente i colori in questa fase creiamo uno stile personale da dare ai nostri filmati è quindi giusto che abbia rilevanza alla nostra sensibilità comunque l'uso dei video scope può essere solo saltuario quando se ne presenta la necessità perché non sappiamo giudicare le differenze con sicurezza insieme l'rgg siamo quindi forzati ad usare il confronto tra reference frame successivi con o senza creazione di una galleria andiamo avanti approfondendo come fare in pratica la comparazione e il bilanciamento delle varie riprese si compara per prima cosa il contrasto cercando zone simili nei due shot e osservando il punto del nero del bianco e ancora più importante il valore medio dei mezzi toni l'esempio classico è il dialogo fra due persone fatto di campi e contro campi magari il primo personaggio ha alle spalle un tramonto rosso e ombroso mentre l'altro personaggio ha alle spalle un cielo ancora piuttosto blu e luminoso cerchiamo il punto del nero in entrambi i volti per esempio per poterli confrontare poi passiamo alle zone più luminose del cielo per giudicare i due punti di bianco infine studiamo bene la luminosità complessiva delle due scene cioè i mezzi toni nulla ci vieta di prendere in considerazione il waveform se non siamo certi di quali punti prendere come riferimento per il confronto con le idee chiare eseguiamo il bilanciamento dello shot per farlo corrispondere al master shot passiamo poi alla comparazione dei colori che è più delicata cerchiamo le zone in cui la variazione dei toni è maggiore sia nelle ombre che nelle alte luci e ovviamente il confronto generale dei due shot cioè le variazioni nei mezzi toni infine dopo aver comparato le tre zone concentrarsi sulla zona che è presente la differenza più grande è nelle ombre oppure in una delle altre zone e questa è la zona che verrà corretta con più attenzione ricordiamoci le differenze di temperatura di colore derivano dall'illuminazione questo significa che dovremo intervenire solo leggermente nelle ombre di più nei mezzi toni ma soprattutto nelle alte luci il confronto prosegue con la saturazione questa è la fase più complessa perché è facile confondere variazioni di tonalità la variazione di saturazione ci vuole occhio allenato in molta esperienza oppure usare lo strumento principe in questi casi il vectoscopio l'angolo sulla ruota colore ci indica chiaramente la differenza di tono mentre l'estensione lungo il raggio indica ancora più chiaramente il livello di saturazione siccome il segreto dello shot matching è la velocità per evitare l'adattamento dell'occhio è preferibile non usare i videoscope e nemmeno la correzione secondaria ma se è necessario usarli allora non dobbiamo farci scrupoli una possibile conseguenza del lavorare velocemente sull'intero fotogramma è portare a uniformare troppo le tonalità della pelle di vari personaggi conservare la ricchezza e la varietà degli skin tones è fondamentale quindi attenti un ulteriore consiglio riguarda il rumore può accadere che i videoscope ci dicano che i due shot siano bilanciati perfettamente ma visivamente troviamo delle differenze che disturbano la causa potrebbe essere la diversità di rumore essi interviene studiando il rumore del master shot e riportandolo tale quale sulle altre clip sia aumentandolo con un filtro noise che diminuendolo con un denoise anche questo è un problema da non sottovalutare pensate alla grana delle pellicole a volte era fastidiosa a volte piena di fascino altra ancora la sua assenza donava una nitidezza spettacolare altro aspetto importante in ambito pro è la possibilità di salvare il grading del master shot e copiarlo pari pari nelle altre riprese se queste sono simili non ci sarà bisogno di ulteriori interventi con grande risparmio di tempo e di fatica altrimenti possono essere necessari dei ritocchi ci possono essere anche casi in cui è più comodo e facile far partire il grading da zero sarà l'esperienza a dircelo il sinelera gg si potrebbe pensare di fare lo shot matching in una traccia condivisa e poi copiare tale traccia anche su altri edit una mossa furba è cercare tutti gli shot simili e raggrupparli così da avere una galleria divisa in gruppi omogenei fatto il grading del master shot lo riportiamo a tutte le altre riprese del gruppo poi passiamo al gruppo successivo e così via in pratica nel solito esempio di campo e controcampo facciamo un gruppo dei campi e un gruppo dei controcampi e magari anche un gruppo degli ambienti come fare a creare una galleria con i vari gruppi in sinelera gg? i programmi pro hanno strumenti appositi ma noi dovremmo ricorrere a un workaround per esempio creare delle nested clip di un gruppo e applicarci il grading adatto poi creare un secondo gruppo di nested clip con un altro tipo di grading e così via altro modo è creare delle ADC LUT personalizzate del master shot con l'apposito filtro di ffmpeg e poi trasformarle in 3d LUT da usare su tutto il gruppo o anche in progetti diversi in questa serie di video non ho mai parlato delle LUT perché seguendo l'impostazione di Van Yurkman preferisco approfondire gli strumenti basi che sono tutti manuali probabilmente più avanti farò un video interamente dedicato alle LUT e alle ALDSI LUT ma proseguiamo con lo shot matching o che penso di essere stato confusionario finora mischiando teorie e pratiche alla rinfusa propongo di ricapitolare il tutto mediante un workflow passo passo adatto a sinelera gg 1. raccogliere le varie clip di una scena 2. esaminare le clip e scegliere la più rappresentativa questa è il master shot 3. fare il grading del master shot fino a che non siamo soddisfatti 4. può convenire fare il grading su uno o più tracce condivise così da poterci tornare sopra più comodamente in un secondo tempo e anche per preservare lo shot originale intatto il loro uso è ancora più consigliabile se dobbiamo fare anche la color correction secondaria così separiamo i vari stagli della correzione e possiamo ritornarci comodamente sopra senza intaccare gli altri siamo al passo 5 scegliere il frame più rappresentativo del master shot e salvarlo come immagine fissa si può fare il render del frame la cosa migliore tanto è istantaneo oppure un grab shot 6. importare nella timeline il reference frame del master shot e applicarci una label 7. creare un multi view di tutte le clip da correggere 8. accodare tutte le clip della scena una di seguito all'altra dopo il master shot 9. se le clip della scena sono troppe o troppo lunghe si possono parcheggiare in una seconda traccia e via via portare in coda al master shot solo lo shot su cui lavorare conviene disarmare, togliere il playback e usare il mute su tutta la seconda traccia in modo che non pesi sul sistema 10. scegliere il reference frame della clip accodata al master shot e applicarci una label 11. adesso possiamo passare da una label all'altra per aiutarci nel confronto e per evitare l'adattamento dell'occhio basta la shortcut L per creare la label e CTRL più freccia destra oppure CTRL più freccia sinistra per navigare da un'etichetta all'altra 12. confrontiamo i due reference frame e iniziamo la correzione per valutare contrasto e colori è meglio fare ad occhio e ricorrere al videoscope il meno possibile solo per valutare la saturazione può essere necessario ricorrere al vectorscope 13. prima bilanciamo il contrasto confrontando i punti del bianco, del nero e la luminosità globale del frame cioè i mezzi toni il secondo passo è bilanciare i colori osservando per prima cosa il frame nella sua totalità e poi confrontando le alte luci e i mezzi toni infatti le maggiori differenze riguardano la diversità della temperatura di colore dei vari illuminanti e queste si vedono principalmente nelle alte luci e un poco meno nei mezzi toni più raro dover correggere le ombre può accadere solo se esistono dominanti di colore proprio nei toni scuri errore dovuto a cattive riprese e quindi indipendenti dalla post-produzione anche in questo secondo passo si dovrebbe evitare l'uso dei videoscope 15. il terzo passo è confrontare e correggere la saturazione è la parte più delicata e serve molta esperienza per vedere le minime differenze torna utile allora usare il vectorscopio che ci fornisce informazioni immediate 16. ultimo passo ma che può essere molto importante è correggere il rumore rendendolo simile a quello del master shot 17. finito il grading della prima clip la si può tagliare e paccheggiare su una terza traccia oppure la si salva in un EDL da riprendere in un successivo momento 18. oppure ancora la si può renderizzare e metterla da parte 18. se vogliamo imitare il workflow pro possiamo creare una galleria di reference frame presi da tutti gli shot prima del grading e lo stesso creare una seconda galleria con gli stessi shot corretti così avremo sempre il riferimento visivo di come procede il nostro lavoro 19. si porta la seconda clip sulla timeline accodata al master shot se non c'è già e si ricomincia il bilanciamento 20. così si fa per tutte le clip della scena se sono tante vi renderete conto quanto sia importante lavorare velocemente sperando che basti la sola correzione primaria e ricorrendo il meno possibile ai videoscop 21. se ci sono shot molto simili si può pensare di riportare il grading del master shot su tali shot in modo da dover lavorare meno comunque in genere la strada migliore è fare i vari grading da zero from scratch dicono gli inglesi 22. ultimo passo ancora più raro è il caso che ci siano un gruppo di shot simili si potrebbe allora creare delle nested clip e fare il grading solo una volta sull'intero gruppo casi che non accadono mai nella pratica a meno che non si lavori su set ad alto budget ma in questi casi non avete certo bisogno dei miei video anzi insegnatemi qualcosa voi ho parlato della possibilità di creare una gallery con tutti i reference frame dei singoli shot master shot compreso magari con immagini corrette e non corrette questo per avere sempre sott'occhio il procedere del nostro lavoro e avere gli shot disponibili e da richiamare ogni volta che ne abbiamo bisogno per noi utenti di sinelera gg usare il reference frame del master shot sulla timeline è una buona idea perché minimizza l'uso di risorse e non si va a toccare il master shot originale invece costruire una gallery di reference frame degli altri shot non la consiglio perché è una pratica da grandi studios e sinelera gg non ha gli strumenti adatti per rendere comoda questa strada come ultimo consiglio ripeto per l'ennesima volta quanto detto da alexis van yurkman nel suo libro è preferibile una corrispondenza percettiva cioè soggettiva ad una corrispondenza numerica fatta con i video scope bene con questo video abbiamo finito la lunga escursione fatta nella color correction usando sinelera gg infinity grazie